Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Venus 47. V-Box Venus 47 Alto Prestazioni, Gaming Gamer, PC Veloce 4, 0GHZFX 8350R7 260XX Un gioco incluso. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.